Consigliere Cacciti, una domanda a margine della manifestazione. Lei in questi giorni è stato oggetto a ricevuto una lettera di minacce. Preoccupato consigliere? La lettera di minacce che mi è arrivata a firma di un gruppo anarchico da un lato mi preoccupa, dall'altro mi fa intuire che probabilmente sto percorrendo una strada giusta per questo territorio. Quando capisco che le motivazioni della lettera sono perché non si vuole che in montagna si usi, non dico si sfrutti, si usi la risorsa legno, la risorsa bosco, vuol dire veramente che siamo arrivati al paradosso. Questa lettera, devo dire la verità, mi è stata più di stimolo che di preoccupazione. Grazie consigliere. Grazie a lei.